Manfredi, candidato alla Camera nel collegio che riguarda la provincia d'Imperia, a parte di quella di Savona, per il Movimento 5 Stelle. Come mai la scelta 5 Stelle? Ritengo che il Movimento 5 Stelle sia oggi l'unica forza politica in grado di mettere la pubblica amministrazione veramente al servizio dei nostri cittadini e di promuovere la rinascita economica e culturale della Liguria. Io ho studiato a Genova, nel liceo classico statale Colombo, poi ho proseguito i miei studi all'estero negli Stati Uniti, ho conseguito un master ad Harvard, oggi insegno geopolitica e scienze politiche all'Università di Parigi e a Sciences Po e vorrei mettere le mie competenze al servizio della pubblica amministrazione e del nostro territorio. Un curriculum invidiabile e anche un bel posto di lavoro, anche se da giovane è dovuto emigrare a Parigi, evidentemente l'Italia non le ha dato quello che sperava, ma abbandonerebbe tutto questo per andare a fare politica? Non per andare a fare politica, ma per cambiare la politica e per aiutare a costruire un'Italia migliore in cui i giovani non devono trasferirsi all'estero per sviluppare le loro potenzialità, ma possono farlo qui in Italia. Le eccellenze dell'Italia oggi sono in difficoltà a causa del malgoverno, le nostre imprese, i nostri giovani e penso che il Movimento 5 Stelle può contribuire a cambiare il modo di fare politica e a mettere la pubblica amministrazione al servizio dei cittadini. Grazie. Grazie.